Musica E' giochiamo a tutti ragazzi Siamo per oggi con Onesimo Rio per presentarvi Un altro video su PES Allora ragazzi, intanto iniziamo subito con la partita Partiamo aggressivi, Barcellona tra Madrid Allora, ho deciso di guardarvi questo video Perché era da tanto che non vi portavo gameplay E come vedete Ho messo la webcam Perché ho fatto un acquisto Un acquisto molto buono A dir la verità Che poi vi mostrerò in un unboxing Farò praticamente tutto un unboxing Non vi preoccupate A breve arriverà il blog Che mi avete fatto delle domande sull'ultimo video Grazie intanto per le domande E Intanto, non so se avete visto Ma mi sono fatto la felpa Personalizzata di ZooGame Proprio quella ufficiale che indosserò Praticamente per registrare i video Questa qua, la vedete? Che poi magari vi metterò Vi metterò una mia foto In futuro Magari Qui sul video Diciamo una clip E intanto partiamo aggressivi Con Neymar Neymar che stoppa tutti quanti Fa skill a caso Il tiro Neymar E c'è la botta A dirlo C'è la botta di Suarez Tu l'ha tirata Ma dove hai tirato? Ok, dai Si riparte Per Dani Alves Fa le skill Oh, signori Il numero Oh, Neymar In mezzo a tutti Ma cosa Ho fatto un fail assurdo Va bene Ok, Xavi Xavi Il numero Le skill Le skill con lui, signori Viene fermato Riguri 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 Rosso È rosso Come godo Come godo Come godo Ok, se fai non possiamo sbagliare Guardo prima la webcam Vai Anzi, non guardo Ho sbagliato Sì Sì E il godo c'è, signori 1-0 1-0 Buschets La bruschetta Faccialo Fine primo tempo, signori Intanto ci portiamo in vantaggio L'1-0 Perde questa altra partita Vai Neymar 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 ancora Skill a caso Viene fermato Riguri un'altra volta, signori Tutto su riguri oggi Vai, allora Tatto No, ho sbagliato Sì Che, che fortuna Che fortuna Ho sbagliato Ho caricato al massimo Però non so perché Ha tirato sta mozzarella Il portiere ha intuito La traiettoria del tiro Il fatto è che Sono troppo forti Cioè niente La fa pure PES Se caga tutto di me Quando dice Eh, questo è Zugem Cioè No Oh, ho parlato Ho parlato Ho detto 4-0 Mi stavano a fare primo gol Non è possibile Mi porto gliela da solo Oh, no Porco due Ho scoperti Ho lasciato scoperti Visco Chi è che ha fatto il fallo Io non lo so Boh Io non so stato Oh Attenzione No Allora C'è Chavi Non so se guarda Webcam Scusate Il primo video che faccio No Il secondo video che faccio Con la webcam È però Mentre gioco Non ci ho mai provato E sinceramente Sono un po' Confuso Perché non so Non saprei se guarda Ogni tanto là Però Sai come Prendo un gol Così Meglio di no Magari guardo Nelle azioni Meno E falcialo Porco due Ecco Che Quella è una partita a manetta Sì però io volevo Ce l'ho rimasto male Che faccio Concludo O Faccio un'altra Concludo o faccio un'altra Concludo o faccio un'altra Ma Forza Vabbè ragazzi Siamo giunti al termine Di questo video Di questo mini video Ma giusto per Diciamo Non lasciarvi Senza video Gameplay Durante questa settimana Io vi ringrazio Tella visione E come al solito Lasciate un bel like Per sostenere questa serie Che diciamo Si svilupperà Nel corso del tempo A breve Uscirà il primo vlog Con la Felpa E anche con Diciamo Farò anche L'unboxing Di nuovi acquisti Non vi preoccupate Che sarà tutto quanto Più aggiornato Ogni settimana Sempre più aggiornati Niente ragazzi Ci vediamo Ci vediamo al prossimo video Ciao ciao E zugema a tutti